La vostra è un'azienda piccolissima, nata da poco, già presente sui mercati esteri. Si può essere già così piccoli, così giovani e già internazionalizzati? Bisogna avere la fortuna di arrivare da un territorio come l'Emilia Romagna, in generale dall'Italia, se vogliamo ragionare un po' più in grande, dove ci sono risorse che possono essere esportate in tempi brevi, come è nel mio caso il food, il cibo. Noi abbiamo in Italia tantissime risorse locali, regionali che ci caratterizzano nel mondo e siamo famosi per questo e quindi per noi può essere facile utilizzare questi strumenti per essere presenti poi un po' dappertutto. In particolare in Brasile ci sono molti italiani, in questa zona di San Paolo è una comunità molto grande e quindi il prod italiano è già conosciuto ed è molto facile per questo penetrarlo al mercato in teoria. Cosa vi aspettate da questa missione, da questo genere di missione? In questo momento stiamo guardando quello che si può fare. Grazie a Confindustria e l'Emilia Romagna, ho creato un sistema per confrontarci con tanti imprenditori e guardare quello che è il mercato e il potenziale. Crediamo che ci sia molto spazio in questo momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.